Ingegnere, tra lei e io so che lei ha un rapporto non certamente felice con la situazione politica, ma qui gioco forza noi abbiamo fatto vedere ciò che questi ragazzi non potranno più avere, più vivere. E quindi so che faccio del male magari ai genitori se mi stanno guardando, che poi è un sacrificio enorme, lo sto facendo anch'io, ma devo anche parlare di questi ragazzi e poi parleremo anche delle spiagge nostre, della ricchezza dell'Italia da amare, ma anche questi ragazzi amavano l'Italia, la vivevano, volevano un bene da morire, però sono stati costretti ad andare a Londra per trovare opportunità di lavoro. Perfetto, guardi, mi trovo in un frangente dove questo argomento mi dà la possibilità di parlare ad ampio spettro della situazione in cui ci siamo venuti a trovare, grazie a una serie di destrutturizzazioni che sono state fatte dallo Stato italiano, dalla scuola italiana e dal popolo italiano. Questi due ragazzi che rimpiangiamo oggi, vedo anche, magari anche con troppo superficialità, perché a me questo dal volto a stomaco, non sono gli ultimi due ragazzi, perché noi abbiamo avuto la Valeria Solesin, che è stata fucilata con un Kalashmikov a Parigi, abbiamo avuto la signora Fabrizia Di Lorenzo, che è stata trucidata da un camion a Berlino, che anche lei si era recata a Berlino per trovare lavoro, mentre il signor Ministro Poletti, beatamente e candidamente, ha detto che forse era meglio che questi ragazzi andavano all'estero, perché qui avrebbero solo dato fastidio. Dunque, se questa è l'Italia in cui noi pensiamo di vivere e di valorizzare, penso che bisogna fare proprio una contromarcia secca, sbrandare la nave e cercare di capire di mettere la prova dritta. Parliamoci chiaramente. Al di là delle coste, l'Italia ha insegnato al mondo cosa sia il turismo, ha insegnato al mondo cosa sia la storia, la cultura, l'arte, la scienza, lo spettacolo. Ogni possibile disciplina ha visto il popolo italiano primeggiare nel mondo, educare il mondo. Sin dall'antica Roma, tenete presente che tutti i parlamenti prendono a riferimento quello che era il diritto romano. Quindi, quando parliamo di democrazia, tra noi e la Grecia l'abbiamo insegnato al mondo. Stranamente, caso vuole, che in questi ultimi vent'anni, da coloro che abbiamo insegnato al mondo cosa fosse il diritto, cosa fosse la storia, la scienza, cosa fosse un telefono, perché peraltro l'abbiamo inventato Meucci, o la corrente elettrica, dove oggi noi qui ne possiamo godere con una semplicità assurda, ci troviamo ad essere invasi in maniera predeterminata e in maniera organizzata da altri popoli che vengono portati qui proprio per distrutturizzare la nostra nazione. Chiaro è che chiunque abbia delle coste, come capita ad esempio a noi in Abruzzo, anche al centro-sud, non può pensare di alimentare il turismo e di valorizzare il territorio se poi ha sacche di senegalesi, di immigrati, di spacciatori di droga, di ghetti che vengono a formarsi là dove i turisti la sera dovrebbero passeggiare. È chiaro che vengono un anno e non vengono più. Abbiamo un problema infrastrutturale, perché non ci dimentichiamo che la costa tira il turismo che poi noi dovremo sfruttare nell'entroterra. Parleremo di questo anche. Perché lei guarda, faccio un esempio, l'Abruzzo stesso o le marche stesse che hanno delle coste stupende, non organizzate bene a livello industriale, come diceva la signora Bibione o Aiesolo, perché chiaramente abbiamo un'altra realtà, però noi abbiamo un'entroterra da valorizzare che non viene collegato alla costa, ad esempio, che questo è un grandissimo problema.